Un sogno viveva nella mente di Corrado Andreat, mio padre, quando il 2 gennaio 1975 fonda CBA, un'intuizione che prende vita in un'abitazione privata ma che, in genio e volontà, portano ad un percorso di inarrestabile evoluzione. Una storia che contiene valori, strade percorse, sacrifici, un racconto di vita e tempo di molte persone, la dimostrazione di un sogno concretizzato in traguardi di successo. Quella di CBA è un'evoluzione fatta di scelte precise, capacità di unire attenzione alla tecnologia e all'innovazione, con la sensibilità verso il mondo socio-sanitario. Tenacia e reale passione per il lavoro sono stati il punto di partenza per giungere a 40 anni di competenza e passione. L'informatica era agli albori a metà degli anni 70. I costi delle attrezzature hardware erano esorbitanti ed i computer si affittavano ad ore. Per Farbriccia, con i pionieri dell'era informatica, nasce il Centro Elaborazione Dati CBA. Allora la protagonista era la perforatrice. Forava schede di cartoncino che rappresentavano la trascrizione dei dati contabili. Un paio d'anni dopo, le perforatrici vengono sostituite dalle registratrici. I dati risiedono ora su dischetto e nascono i primi sistemi di elaborazione dell'IBM. Quei sistemi anticipatori di cambiamenti epocali ancora affascinano le nostre menti. Nei primi anni 80, sistemi più evoluti, con monitor pesanti, voluminosi, dalle inconfondibili scritte verdi, testimoniano una costante evoluzione. Ed è così anche per CBA. I primi programmatori creano soluzioni su misura per i clienti che effettuano accessi in remoto con il Centro Elaborazione Dati CBA. Nel 1984 alcuni clienti decidono per l'acquisto di un Centro Elaborazione Dati. Questa evoluzione è la svolta. I clienti autonomi favoriscono l'introduzione alle soluzioni CBA, un processo evolutivo e refrenabile. CBA diviene Centro Elaborazione, Agente IBM, Installatore di Reti, Rivenditore e Manutentore Hardware ed infine affina progressivamente a soluzioni software. I dipendenti a fianco di mio padre sono otto, ma la prima grande trasformazione avviene nel 1985. Con i primi personal computer CBA decide di inserirsi in un segmento di mercato ancora privo di competenza informatica, le strutture per anziani. Pone così le basi per la leadership di mercato oggi conquistata. Dopo un paio d'anni le strutture clienti sono oltre 100. L'azienda si evolve e CBA Informatica, inizialmente dedicata al commercio di prodotti hardware, successivamente diventa sinonimo di alta specializzazione con software di massima qualità e flessibilità, che a fine anni 90 vengono trascritti per la piattaforma Windows. Il secondo millennio mette a dura prova. Il millennium bug si rivela una forte insidia. Poco dopo, il 2002, impegna molte risorse dell'azienda nel superare la complessità dell'euro. Notevoli sono gli investimenti anche a livello di risorse umane, ma ciò che regala enormi soddisfazioni è il considerevole incremento di clienti, che nel 2003 passa a 640, mentre le risorse umane in azienda sono oltre 30. Nel 2003 nasce CBA Servizi, a conferma di una crescente specializzazione nell'ambito lavorazione stipendi. Nel 2011, mentre i clienti giungono al migliaio e i dipendenti sono ormai 60, nasce il terzo ramo aziendale, CBA Consulting. Questa evoluzione intra-business unit consente a CBA di offrire un servizio unico e completo nel mercato di riferimento. Subito dopo, un'altra svolta importante, l'introduzione del linguaggio multiplattaforma Java permette l'introduzione di applicazioni web. Questo è un ulteriore cambio epocale nel gruppo CBA, che dal 2013 intraprende un nuovo viaggio nell'evoluzione tecnologica. Mio padre scriveva, sono chiamati prodotti verticali. Io li definisco più semplicemente programmi progettati, costruiti e curati per uno specifico settore. SIPCAR è uno di questi perché è stato realizzato esclusivamente per le case di riposo IPAB. SIPCAR quindi è nato per accompagnare le case di riposo verso il futuro, aiutandola a crescere e a risolvere i problemi di oggi e di domani. Oggi. Il gruppo è costituito da tre business unit, CBA Informatica, CBA Servizi e CBA Consulting. Il coordinamento di questi tre rami aziendali permette un servizio preciso e mirato, assicurando la massima efficienza ed una gestione semplice e ottimale. Una spiccata conoscenza e specializzazione verso le strutture per anziani conferma la leadership in tale ambito, con soluzioni che nascono dall'esperienza diretta in moltissime strutture di tutta Italia. Software perfettamente adattabili aiutano ad amministrare ogni attività e a condividere al meglio il patrimonio informativo. Con CBA si può fare affidamento su un unico interlocutore per tutto ciò che riguarda ricerca e sviluppo, commercializzazione ed assistenza post vendita. Software. Tante esigenze, un'unica risposta. I software CBA sono modulari e perfettamente adattabili. Efficaci se sfruttati singolarmente, diventano ancora più vantaggiosi e produttivi se utilizzati nelle loro molteplici integrazioni. SIPCAR Plus è la piattaforma ideata e realizzata interamente dal nostro reparto ricerca e sviluppo. Un'unica soluzione gestionale per amministrare ogni tipologia di servizio e ambito aziendale. 9.000 software installati, 1.300 strutture clienti, 25.000 operatori coinvolti, 130.000 ospiti assistiti. Gestione stipendi. Liberi di pensare ad altro. Affidandosi a CBA per la gestione degli stipendi, le aziende possono adempiere a questa necessaria incombenza, delegando completamente questa mansione. Si può scegliere tra un software dedicato e un servizio in outsourcing. Un team di professionisti, coadiuvato dall'ufficio studi interno, garantisce l'aggiornamento costante su tutte le più recenti normative giuridico-fiscali. 160.000 cedolini ogni anno. Consulenza e formazione. La nostra conoscenza è al vostro servizio. Dall'esperienza CBA nasce il servizio di consulenza specialistica e formazione, rivolto al management e agli operatori delle realtà sociosanitarie. I nostri esperti affiancano le strutture nello sviluppo di tecniche e procedure, proponendo le soluzioni più avanzate e le migliori metodologie. Consulenza specialistica in svariate aree consente un costante aggiornamento normativo ed un supporto specialistico a tutto il personale delle realtà residenziali. 26 corsi. 640 discenti. Assistenza. Una squadra a disposizione. La qualità CBA è garantita da un team di assistenza interno, che assicura la perfetta conoscenza del prodotto grazie alla collaborazione costante col nostro reparto ricerca e sviluppo. Capacità di evolvere nel tempo. Sipcar Plus 2.0. È lo sviluppo web di una piattaforma che da decenni si affianca alle strutture ed oggi ha avviato l'ambizioso cammino di una completa riscrittura per servire il mercato con una soluzione ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico. Sipcar Plus 2.0 è la trasformazione per offrire massima completezza e far fronte alle esigenze di assoluto rendimento e produttività. Web App Cartella sociosanitaria CBA è oggi un software web-based. Versatilità, fruibilità e mobilità. Questi i punti di forza del nuovo utilizzo che sarà usufruibile con mobile devices, smartphone o tablet. Innovazione nella gestione dell'intera filiera del farmaco. Con l'obiettivo di implementare modalità più efficienti possibili, con riduzione dei costi e del minor rischio, CBA vanta il primato di aver introdotto, per la prima volta in Italia, un sistema che si prenda a carico completamente di tutti gli aspetti della filiera del farmaco. Il sistema gestisce farmacia e magazzino, l'approvvigionamento, la prescrizione della terapia da parte del medico, fino alla preparazione e somministrazione dei farmaci. Innovazione, dinamicità e attenzione alla persona sono i valori che da sempre ci guidano, facendo diventare CBA il gruppo leader in Italia nei servizi informatici per le realtà sociosanitarie. Questo nostro approccio è unico nel mercato di riferimento e consente una presa in carico globale con l'integrazione completa dei servizi. È per questo che oggi una residenza per anziani su due sceglie CBA. Un traguardo, i nostri 1300 clienti e i 68 dipendenti.